13 motivi per cui i gatti sono meglio dei cani Buongiorno a tutti e benvenuti a questo divertente e curioso viaggio alla scoperta del mondo dei gatti. Oggi parleremo di un argomento che ha diviso gli amanti degli animali domestici per secoli, i gatti contro i cani. C'è chi preferisce i cani perché sono animali fedeli e affettuosi, chi preferisce i gatti perché sono animali indipendenti e misteriosi. In questo testo, vedremo 13 motivi per cui i gatti sono molto meglio dei cani. 1. I gatti sono più puliti. I cani amano rotolarsi nel fango e annusare i rifiuti, mentre i gatti sono animali molto puliti. Si leccano regolarmente per mantenersi in ordine, e non hanno bisogno di essere portati a spasso per fare i bisogni. I gatti sono i maestri della pulizia. Si leccano per ore ogni giorno, e questo aiuta a mantenere il loro pelo pulito e sano. I cani, invece, non sono così bravi a pulirsi, e spesso finiscono per sporcarsi con fango, terra e altri detriti. I gatti sono indipendenti e non hanno bisogno di essere portati a spasso. Questo li rende una scelta ideale per le persone che vivono in appartamenti o che non hanno molto tempo per uscire. I cani, invece, hanno bisogno di essere portati a spasso regolarmente per fare i bisogni e per fare esercizio. 2. I gatti sono più autonomi. I cani hanno bisogno di essere portati a spasso, nutriti e coccolati costantemente, mentre i gatti sono animali molto indipendenti. Possono stare da soli per ore senza annoiarsi, e non hanno bisogno di essere portati a spasso ogni giorno. I gatti sono animali solitari e non hanno bisogno di stare sempre con le persone. Questo li rende una scelta ideale per le persone che lavorano molto o che viaggiano spesso. I cani, invece, sono animali sociali e hanno bisogno di stare con le persone per essere felici. I gatti sono bravi a intrattenersi da soli. Amano giocare con i giocattoli e esplorare l'ambiente circostante. I cani, invece, hanno bisogno di più attenzione e attività da parte delle persone. 3. I gatti sono più silenziosi. I cani abbaiano, ululano e guaiano, mentre i gatti sono animali molto silenziosi. Miagolano solo quando hanno bisogno di qualcosa, e spesso lo fanno in modo molto discreto. I gatti sono animali molto discreti. Non ti disturberanno con i loro latrati o ululati. I cani, invece, possono essere molto rumorosi, soprattutto quando sono eccitati o annoiati. I gatti sono bravi a comunicare con i loro umani. Non hanno bisogno di urlare per farsi sentire. 4. I gatti sono più eleganti. I cani hanno un aspetto sciatto e goffo, mentre i gatti sono animali molto eleganti. Hanno un portamento regale e un pelo morbido e setoso. I gatti sono animali molto affascinanti. Hanno un aspetto misterioso e un portamento regale. I cani, invece, possono essere un po' goffi e sgraziati. I gatti sono animali molto versatili. Possono essere eleganti, ma anche buffi e divertenti. 5. I gatti sono più misteriosi. I cani sono animali molto prevedibili, mentre i gatti sono animali molto misteriosi. Non si sa mai cosa stanno pensando o cosa faranno, e questo li rende molto affascinanti. I gatti sono animali molto intelligenti. Sono in grado di imparare e adattarsi a nuove situazioni. I cani, invece, sono animali molto semplici e spesso si comportano in modo prevedibile. I gatti sono animali molto imprevedibili. Questo li rende affascinanti e divertenti. 6. I gatti sono più divertenti. I cani sono animali molto giocosi, ma i gatti sono ancora più divertenti. Amano giocare. 7. I gatti sono più affettuosi. I cani sono animali molto affettuosi, ma i gatti sono ancora più affettuosi. Si sdraiano sulle nostre gambe, ci ronfiano sulla testa e ci fanno le fusa. I gatti sono animali molto amorevoli. Amano stare vicino alle persone e ricevere coccole. I cani, invece, possono essere un po' troppo affettuosi a volte. I gatti sono animali molto espressivi. Ci fanno sapere quando sono felici, tristi o arrabbiati. I cani, invece, possono essere più difficili da capire. 8. I gatti sono più facili da addestrare. I cani sono animali molto difficili da addestrare, mentre i gatti sono animali molto facili da addestrare. Possono essere addestrati a fare semplici comandi, come sedersi, stare fermi e venire. I cani, invece, non sono più capite. Grazie a tutti.